Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Vintage Craft E tipo io sono nella schermata iniziale perché è successa una cosa che non so nemmeno come spiegare perché non l'ho capito Sono intanto qui con Marci quindi ciao Marci Ciao a tutti colpa mia ragazzi gli ho detto di iniziare a registrare Perché praticamente ho preparato una sorpresa per tutto il server E voglio una reazione da parte di tutti no E infatti ho detto regista che voglio la reazione però io non so nemmeno Cioè me lo giuro non so assolutamente nulla Cioè intanto Marci sul server entro allora Entra entra C'ho un po' di paura Marci non te lo nego Porca puttana Marci Perché sei morto? Marci Marci dove sono sponato? Il mio letto mi hai spaccato il letto Sì solo il letto ti ho spaccato perché? Marci Ma te ma sono lontanissimo sono 300 mochi Dai tippati tippati No non mi tippo Non mi fai ricadere nel buco Non mi fai ricadere nel buco Ma... Ma Marci ma... Ma c'era la mia roba? Il mio letto? Questa è la casa... La mia antenna Ah no l'antenna è rimasta Ma Marci ma c'era tutto qui Ma c'è... Ma c'è... L'ha messo nelle ceste tipo Il... Il coso che ha scavato No Marci È tutto qua dentro Qua dentro? Ah beh giustamente la cesta sta lì Marci ma questa era casa mia Era una cazzo di montagna questa La mia roba sta tutta sotto C'è un ender per lì Faccio così E adesso? Vado vado... Non lo so Marci ma che cazzo... Marci ma sei impazzito Ma metti un query sopra casa Tana Tana Ma tutta la mi rovina Ma scusa ma gli altri... Una sorpresa detto per il server Cioè vuol dire che hai distrutto tutto a tutti No no l'ho fatto solo a te Era solo per farti iniziare a registrare Ma quanto sei merda Io te lo spacco questo coso Io te lo spacco Marci Ora sa che te lo distruggo Eh tanzo è un regalino Ma un regalino cosa? Te lo lascio questo query Anche la cesta è l'alchimica il cesta Ma... Ma che poi dov'è la roba? Non c'è mica Non c'è una cesta in cui hai messo la roba Sopra Tano Ma dove la vedi? Ah questa Ma Marci ma no Dai ti ho salvato tutta la roba Tano Ma come? Ma non ho più una casa Marci Eh Tano Io ti uccido Io ti uccido Marci Vieni qui Vieni qui No io scherzavo Scherzavo dai Marci Siamo comunque ancora amici Non ti vuoi usci Ah Tano però tu ieri sera Io ti ho fatto fare un backup Sì ho fatto un backup ma Era apposta per sto motivo Perché se tu Volevi tenerti questo query sopra casa Ma no Se volevi tenerti questo query sopra casa Perché praticamente Ovviamente se tu noti C'è una cesta E comunque ti ho salvato praticamente tutto Solo il collector Non c'è più E niente Quindi o ti metti il backup O questo rimane un simbolo del server Marci ma non posso tenermi un query sopra casa Questo Ma che sai A parte che non so nemmeno se gli oggetti li ha spaccati sinceramente Perché Sì e i solar panel sono I panel solari sono distrutti completamente Sono diventati Anzi no Marci le hai buttate via te Cosa? Non ci sono nemmeno più qua dentro Non sono nemmeno diventati generatori Ah sono gli unnamed li chiamo Unnamed? Ah questa roba qui? Sì ma sono cavi alla fine questi unnamed È vero ma che cavolo Non lo so Io non ho usato questi cavi qui eh Anche i cavi Sì ma anche i cavi di fibra I fiber I glass fiber Diventano quelli lì Quando li spacchi con queste cose qua Ma what? Non è tanto niente Io Marci però il fatto è che Non posso tenermi un query sopra casa Cioè va bene tutto Però io Cioè non è una casa Questo è diventato un buco Presumo che questo sarà Sarà un mondo vecchio Che rimetterai l'altro quindi Marci Sai com'è Non ho più i pannelli solari Non ho più nulla Marci Io Io ti dico una cosa Aspettati una vendetta Ti dico solo questo Io Marci Sto farmando cavi Cavi arancioni Guarda Ma le li Ah no ma Ah è vero li rifà Sì sì li rifà Ma cosa servono scusa? Niente Ah sono quelli per trasportare gli oggetti No sono buoni invece Sono buoni Marci però io te la faccio Anzi già che ci siamo Marci Marci hai un quadro sulla spalla Vieni qui Vieni qui E vabbè Oh ops Ops Marci Vabbè ragazzi Io spero che questo video un po' diverso dal solito Vi sia piaciuto Vi do lasciare un like Marci a me è venuto un infarto Da Marci è tutto Bella Bella A me veramente è venuto un infarto Marci Sono entrato in casa Quando ho visto che avevi spagato tutto Ho detto no Questa è la fine Cosa cazzo ha combinato Ho detto